Federico Aldrovandi, studente incensurato, integrato, di condotta regolare. Non si può raccontare una vita anche se di soli 18 anni appena compiuti. Federico Aldrovandi è morto tragicamente durante un fermo di polizia il 25 settembre scorso. Muore 18 anni e giallo. Un ragazzo ucciso d'ombra. Si è casciato davanti agli agenti. Si è casciato davanti agli agenti. Il tuo amico è morto perché è un drogato. Anche tu sei un drogato. Dimmi da chi prendete la droga. È morto. È morto. Echimosi sugli atti inferiori, sicuramente prodotte da manganelli. Sono stato accusato di oprire la polizia. Veli amici che c'hai, stai attento tu, stai attento. La registrazione si può staccare. Penso di sì. Per parlare liberamente. Volevi sentire la loro coscienza di padri, di genitori, di poliziotti. Non significa che qualcuno non possa aver sbagliato quella maledetta notte. Chiedo come tutta la mia famiglia, come tutta questa gente, che ci sia un processo. È un tradimento, è un altro tradimento di processione. È un altro tradimento. I testi sono stati l'ultimo dubbio. Incredibile. Guardate come hanno ridotto mio figlio. Che c'entra la droga. Un agente gli schiacciò la schiena impedendogli di respirare. Aveva un collo taurino. Poliziotti che continuavano a picchiarlo quando lui era per terra. Siamo qui per aiutarvi. È facile che un manganello si rompa. La frattura tra due corpi dello Stato. È clamoroso questo rappello qua. Sono cose torribili. La frattura tra due corpi dello Stato.